Buongiorno, mi chiamo Amy Bolling e sono degli Stati Uniti d'America. Cosa ti ha spinto a venire qui in Italia? All'inizio, nell'85, sono venuta per la via del lavoro dei miei genitori. Come hai imparato l'italiano? Ho imparato l'italiano con i miei amici italiani, guardando la televisione e anche leggendo tanti libri. Hai nostalgia della tua patria? Sì, molto, però sto bene anche qui in Italia. Hai parenti in Italia? Non ho parenti d'origine, ho mio marito e i miei due figli. Quanti anni avevi quando sei emigrata? Avevo 11 anni. Qual è stata la motivazione a venire qui in Italia? All'inizio sono venuta insieme ai miei genitori perché ero ancora piccola. Dopo aver frequentato l'università ho deciso di ritornare in Italia perché ormai ero anche fidanzata con mio marito e ci siamo sposati. Durante il viaggio hai mai avuto ripensamenti sul fatto di ritornare a casa? Sì, all'aeroporto dove sono partita. Cosa fai qui in Italia? Faccio l'insegnante. Cosa ti manca di più del tuo paese? La mia famiglia, tantissimo, alcune cose da mangiare e la natura. Hai intenzione di ritornare nel tuo paese o consideri ormai l'Italia come la tua casa? Ormai l'Italia è la mia casa e quindi penso di stare qui a meno che i miei figli non decidano di andare a vivere in America e di seguire loro. Grazie per questa intervista. Prego, good luck and goodbye.